Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme la prima maglia del Milan per la stagione 21-22 nella versione fun, quella un po' più confortevole dedicata ai tifosi. Nella ricca storia del Milan, le strisce sulla maglia di casa sono state applicate in varie larghette. Sulla nuova maglia di casa riappare quindi l'iconica strisce del Milan. Questa volta però con più larchezze diverse tra loro, una novità che simboleggia il fatto che il Milan guarda avanti d'ora in poi. Emirates è il main sponsor e official airline partners, mentre BitMEX debutta come slip partner sulla manica sinistra delle maglie. La maglia a scolla V con costruzioni a coste sul retro e tessuto a conchiglia davanti. Realizzata con l'innovativa tecnologia Dry Cell, questa maglia di Puma assicura proprietà antisudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende tre stelle, fatta molto bene, con le stampe fatte al posto giusto e in queste maglie è una cosa da guardare con particolare attenzione e trovate in descrizione tutti i riferimenti per poter acquistare la maglia. E se amate questi colori, a 24,99$ è una maglia da non perdere, peraltro spese di spedizione incluse. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se la maglia vi è piaciuta vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan o Stadium, quella un po' più confortevole. Grazie a tutti!